Buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa andando a guardare le prime pagine regionali. Partiamo dal quotidiano Il Centro, questo è il titolo dell'edizione di Pescara, una task force per le emergenze, tecnici comunali sempre reperibili per interventi su strade, edifici e verde pubblico a Pescara. Andiamo a centro pagina a vedere la fotonotizia, l'offensiva italiana sull'automotive parte dall'Abruzzo e il titolo sulla visita di ieri del ministro per il mezzogiorno Claudio De Vincenti. Andiamo a vedere in Abruzzo verso il voto d'Alfonso a Roma solo per un incarico nel governo e poi denunciate sul quotidiano il centro e il degrado della vostra città. Sotto la fotonotizia andiamo a vedere i veleni di Bussi, il titolo, la regola è chi inquina paga, la bonifica deve farla Edison, parla la dirigente del ministero Laura D'Aprile che dice per me vale un solo principio, chi inquina paga e a inquinare il sito di Bussi è stata la Edison. Oggi ci sarà il tavolo tecnico a Roma. Di spalla nelle cronache incensurato di Montesilvano armi e cocaina in casa, arrestato per aio 39enne e poi da Pescara 13enne denunciato per 20 furti il calcio con il caso Pigliacelli, scoppia la pace con Zeman in casa Pescara. Dunque sembra rientrato anche questo caso che aveva tenuto banco sin dalla scorsa settimana. Nel taglio alto andiamo a vedere il richiamo dal nazionale, la ragazza moncarabiniere, il boss della mafia ordina, mia figlia deve morire, questo è il titolo, sull'arresto di Giuseppe Scaduto. E poi nel taglio basso il buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, titolo quel tramonto, ci ricorda che la natura esiste, potremmo aggiungere noi, nonostante il cellulare che troppo spesso guardiamo. senza accorgersi del resto. Andiamo a leggere anche questa simpatica freddura del controcampo, svolte vaticane per evitare la guerra atomica, Papa Francesco ha avviato un dialogo serrato con la Corea del Nord, oddio santità sta rubando il mestiere a razzi. Andiamo avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, adesso andiamo a leggere la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, titolo di apertura di cronaca, vigilessa presa a calci e pugni a Lanciano, aggressione compiuta da uno sconosciuto che l'aveva seguita fin sotto casa. E poi andiamo a vedere nelle cronache, taglia le corse dei bus sia al piano del risparmio a Chieti e poi ancora l'asle di Chieti, corte dei conti di Pietro, nessun abuso, da Vasto la regione c'è speranza per il Cotir. Continuiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere anche la prima pagina dell'edizione Teramana, tangenti arrestato capocantoniere e accusato di aver chiesto soldi a imprenditori per rilasciare i permessi dell'ANAS. E poi di spalla nelle cronache la riciteglia a San Nicolò, tutta la nostra stagione questa è la prosecuzione della cosiddetta guerra del teatro in città e poi a Giulianova ad Alfonso apre uno spiraglio sull'ospedale da Tortoreto, convenzione con i privati per l'asilo nido. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'Aquila Avezzano sul Mona, il titolo di apertura Università matricole in aumento, inaugurato l'anno accademico all'Aquila ha persi 6 mila iscritti dal 2009 ad oggi. Di spalla nelle cronache l'Aquila, seggiovia delle Fontari, rischio di perdere i fondi dell'Unione Europea, vedete una foto dei nuovi cavi della seggiovia di Campo Imperatore. Poi ad Avezzano, ematologia, un reparto in bilico è sul Mona, teatro Caniglia, abbonamenti raddoppiati. Lasciamo il quotidiano in centro, adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, il titolo di apertura Pescara, i piani della Camorra. Chiuse le indagini della direzione distrettuale antimafia sugli affari del clan Formicola, gli imputati sono 19, roghi attentati contro i locali per regolare i debiti per droga ed usura. E poi notizia invece che arriva da Chieti, omicidio d'Aita in aula assist per la difesa, Emanuele fu colpito per primo e reagì da un test dell'accusa, arriva un assist per Emanuele Donofrio, l'operaio Tiatino accusato dell'omicidio d'Aita. E poi andiamo al centro pagina, nella fotonotizia la nuova Pescara, il PD cerca una linea sul progetto di legge, ipotesi d'amico per il super comune. Un netto no è arrivato dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, molti anche i dubbi sollevati dal neosegretario di Montesilvano Enzo Cantagallo, ma Luciano D'Alfonso punta alla nascita della città metropolitana nel 2019, e cala un 9 pesante per la guida. Andiamo a vedere anche le altre notizie, sempre a centro pagina. Anas arrestato un funzionario a soldi per i lavori a Teramo paga o la pratica non va avanti sotto accuso al responsabile della statale 16? La minaccia era chiara, se non pagate la vostra pratica non andrà a buon fine. È finito agli arresti domiciliari, un funzionario dell'Anas referente per il territorio della provincia di Teramo, con compiti di vigilanza anche sulla strada statale 16. Ad avere il coraggio di denunciarlo è stato un imprenditore al quale da tempo il capo cantoniere chiedeva soldi extra in cambio del buon fine delle pratiche che venivano regolarmente pagate all'Anas. Appello della procura, se ci sono altre vittime si facciano avanti. Poi ancora la cronaca da Avezzano, in questo richiamo il Nassi Nazione chili di alimenti sotto sequestro. Andiamo a vedere nel taglio basso la visita del ministro De Vincenti ad Atessa. Il governo crede nell'automotive. Partita dalla Sevel, la fabbrica dei record, la visita del ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, che ieri ha dato uno sguardo all'enorme potenziale industriale abruzzese e della Val Sangro, detta Automotive Meccatronic Valley. In Sevel ha incontrato il vertice aziendale e gli esponenti di FCA. Nel pomeriggio ha preso visione del polo di innovazione dell'automotive a Santa Marimbaro degli innovativi progetti di sviluppo. Investimenti da 14 milioni di euro, di cui 8 milioni finanziati con fondi par FSC Abruzzo. Ancora notizie di spalla, quella tavola dei morti parentestretta di Halloween per quanto riguarda le tradizioni, i tanti punti di contatto fra riti d'Abruzzo e tradizione celtica oggi così di moda. Nel taglio alto andiamo a vedere gli altri richiami. Teatro, TSA, bilancio ok, Jacopo Gasman in corsa per la direzione. Sempre per quanto riguarda il teatro e la cultura a Teramo, stagione della Riccitelli al Palasport, ACS invece al Comunale. E poi l'Aquila, l'addio del comandante, grippo shock, terremoto. In tanti hanno riso dopo. Il numero uno della Polizia Municipale saluta e accusa, criticati soltanto gli imprenditori intercettati la notte del 6 aprile, ma poi c'è stato di peggio. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura riguarda la cronaca, mazzette sulle pratiche ANAS, funzionario terramano arrestato dalle fiamme gialle dopo la denuncia di un imprenditore. E poi a centropagina, nella fotonotizia, Teramo, la stagione della Riccitelli spostata al Palas San Nicolò, il nuovo teatro, dunque, palzetto che diventa un nuovo teatro. Ancora l'intervento di Marcello Martelli, giochetti proibiti, è il titolo, una riflessione ad ampio spettro sulla crisi che sta mettendo in serie difficoltà la provincia di Teramo, la crisi economica ovviamente. I ladri vandali in chiesa nel taglio alto e nelle scuole di Giulianova. I carabinieri ne sorprendono due al crocetti. Ancora debito mai onorato, Roseto Pignore, conti comunali di Notaresco. Frontale mortale, indagato 29enne di Basciano. Di spalla, dal badriatica, transessuale, vaga, seminudo tra i passanti del lungomare. Poi a Tortoreto, inchiesta chiusa sul nonno pirata della strada. Sotto la fotografia, comuni incapace sul cineteatro, reazioni durissime per il danno al Riccitelli, tornando appunto alla notizia del titolo sulla fotografia della stagione Riccitelli spostata al pala San Nicolò. Nel taglio basso invece la Serie C, Mister Asta, c'è stata la cura alla parigite cronica del suo Teramo. Dopo l'ennesimo pareggio appunto si cerca di trovare la chiave per conquistare i tre punti. Andiamo adesso ad aprire lo spazio dedicato al nazionale con i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, il Russiagate, i primi arresti, Casa Bianca, Manforte, un uomo da affari accusati di cospirazione, il presidente, fatti vecchi di anni, convolto all'ex capo della campagna di Trump, cambio alla Fed, in arrivo Powell. Sempre notizia d'oltreoceano, Hollywood, il premio Oscar chiamato in casa da un attore, mi scuso per le molestie, poi Spacy rivela di essere gay. Questa ancora l'ennesimo scandalo possiamo dire che sconvolge il mondo di Hollywood. Nel taglio alto, Catalogna, incriminato Puigdemont, lui vuole in Belgio, chiederò l'asilo, queste le conseguenze della indipendenza a questo punto praticamente tramontata della Catalogna. Poi troviamo l'editoriale di Nicola Saldutti, le solite trappole del fisco sulla manovra economica del governo. Andiamo sulla Repubblica, anche qui il titolo è sul Russiagate, si avvicina a Trump, scrive Repubblica, arrestati Manford, capo della campagna elettorale Gates per complotto contro gli Stati Uniti e Fondi Neri. Il Presidente, le accuse non mi riguardano, un altro membro dello staff ammette, ho mentito all'FBI. Ancora a centropagina la Catalogna, i capi catalani e la fuga a Bruxelles vogliono chiedere asilo politico. Puigdemont in Belgio, presenza ingombrante per il governo, anche se sull'asilo politico in Belgio non decide il governo, ma un'autorità terza. Andiamo a vedere un'altra notizia, sempre su questa prima pagina, mafia e stragi riaperta l'inchiesta, Berlusconi e Dell'Utri indagati, Firenze dopo le intercettazioni del boss Graveano, appunto la riapertura del procedimento. Andiamo sulla stampa di Torino, il titolo riguarda appunto la Catalogna, fuga in Belgio, finisce il sogno di Puigdemont, potrebbe chiedere l'asilo politico, Madrid prepara l'ordine di arresto, l'ex Presidente catalano è accusato di sedizione. Poi a centropagina, smog record, la terra non respira, nuovo picco di CO2 nel 2016, salgono le temperature e i rischi siccità, chiaramente la stampa e il quotidiano torinese pone grande attenzione a questo tema, visti i problemi che si sono registrati a Torino e in Piemonte, prima per lo smog e poi per i fumi e degli incendi che stanno ancora bruciando in regione. Andiamo sul sole 24 ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano, l'apertura riguarda il fisco e la manovra. Ecco tutte le novità, casa, investimenti, bonus 80 euro, PIR, le misure per imprese e famiglie nel DDL di bilancio, sconto contributivo del 50% per i primi treni di assunzione dei giovani, Padoan all'Unione Europea, i saldi sono corretti e poi vedete in questa infografica le misure principali contenute nel provvedimento del governo. Nel taglio basso andiamo a vedere quest'altra notizia, bando ultralarga sulla copertura, il sud batte il nord. In Puglia servito l'87% degli immobili. Nel taglio alto andiamo a vedere il focus tradizionale del sole per le nuove regole sulle termovalvole, tabelle dei millesimi da aggiornare, questo è il focus sulle regole dei condomini. Il fatto quotidiano, andiamo a vedere il titolo di apertura, il ritorno degli zombie, effetto Rosatellum, con le finte coalizioni, resuscitano i vecchi ras locali, da Mastella a Demita, da Fitto a Romano, da Cesa a Tosi, tutti decisivi. Le elezioni siciliane, l'isola alle urne, la Lega confessa, liste sporche e il centrodestra adesso si fa schifo da solo, da più parti viene invocato un passo indietro da parte del candidato Presidente per il centrodestra Nello Musumeci. Andiamo a vedere l'altra notizia a centropagina, manovra a mancette e marchette, partiva da 70 articoli, ora è a 120, voto in vista, legislatura agli sgoccioli, il mille proroghe rischia di saltare e allora tutti cercare di modificare il provvedimento economico e finanziario. Poi la Catalogna via dall'arresto, Puigdemonti in asilo, nelle Fiandre ribelli. Andiamo sul manifesto, il titolo tradizionale sulla fotografia, state bonus se potete, piovono bonus nella manovra, 4 miliardi in forma di sconti, agevolazione di imprese e banche, briciole per le famiglie numerose, un replay renziano che non piace alle opposizioni, a Palazzo Madama i numeri ballano e il PD precetta i senatori. Padoan a Bruxelles dice i conti sono in ordine. Nel taglio alto il tema della Catalogna, Puigdemont profugo a Bruxelles, la magistratura di Madrid in crimine del Presidente catalano per sedizione rischia l'arresto e poi vedete di spalla all'interno il Russiagate. Bugie e cospirazioni gli uomini di Trump si consegnano all'FBI. Il messaggero, andiamo a vedere il titolo del giornale romano in apertura, Catalogna, la fuga dei secessionisti. Puigdemont e cinque suoi ministri a sorpresa a Bruxelles vogliono l'asilo politico in Belgio. La procura di Madrid ha chiesto l'incriminazione per ribellione e sedizione ma non l'arresto, almeno al momento. E poi il Russiagate fa tremare Trump, arrestato l'ex guru della campagna elettorale, accuse di cospirazione contro gli Stati Uniti. Andiamo a vedere adesso il quotidiano Il Tempo, anche qui il titolo di apertura, mai più volta gabbana, onorevoli fregati per legge. Addio cambi di casacca, pronto il regolamento del Senato, i trasformisti non potranno fondare partiti, Scilipoti dice è ingiusto. E poi notizia curiosa, Hitler vivo in Sud America, la CIA il giallo sulla morte del Führer è scappato subito dopo la guerra. Questo è un tema che ormai va avanti da decenni, quello della fine di Adolf Hitler. Andiamo su Libero, il titolo di apertura, la Previdenza è un rottame, Boeri non riscuote i contributi, il governo gli dà 60 miliardi, il presidente dell'Inps ne combina di tutti i colori e succhia soldi allo Stato, nessuno lo caccia, previsti aumenti sconsiderati dell'IVA, Banca Italia sputacchiata dai risparmiatori, quattrini al sud per nacchia al nord. Le province non esistono più, ma costano come quando erano in vita il paese di Pulcinella, secondo il giornale diretto da Vittorio Feltri. E poi a centropagina la foto di Kevin Spesi, sono gay ma molesto ragazzini in modo democratico, è l'articolo di Gianluca Veneziani. Sul giornale adesso, caste di Stato, più soldi in busta paga solo a giudici e burocrati dal 2005 stipendi boom e i dem salvano i vitalizi ai politici. Tasse e mance, ecco le novità in manovra. Andiamo sulla verità, apertura differente per il quotidiano di Maurizio Belpietro, mi chiamo Corrado e sono incinto, questo è il mio bambino che partorirò. Intervista esclusiva con l'ermafrodito, padre di tre figli che si è autofecondato involontariamente. Sono sconvolto ma non al voltisco, ha dichiarato poi diventerò donna. A centropagina, parodi sotto il 10%, allarme con T-Rai, la domenica pomeriggio di Rai 1 è una tragedia, ora sulla 7 arriva Giletti a dare altri colpi a Fazio, eppure Viale Mazzini si dà a strane spese a Milano, affitterà 20.000 costosi metri quadrati in zona fiera. Andiamo su avvenire adesso il quotidiano cattolico, il titolo di apertura a crimini nazionali. La scura giudiziaria decapita i vertici del governo catalano, negli Stati Uniti il responsabile della campagna presidenziale si costituisce. Ribellione, Puigdemont accusato, va in Belgio, cospirazione, arrestato il consigliere di Trump. Dunque c'è questo parallelismo tra il caso della Catalogna, è quello che si sta verificando invece, oltreoceano. Il Papa, le parole nella fotonotizia, si rischia il suicidio avanti col disarmo nucleare, nessuna mediazione, ma un grande convegno in Vaticano per cercare di affievolire i venti di guerra che arrivano dall'Oriente. Poi la manovra e la legge di bilancio, Padoan tiene il punto rispettati i criteri dell'Unione Europea. Gentiloni in India, la crescita del Paese sta accelerando. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, il titolo di apertura, l'indipendenza finisce in fuga. Catalogna, Puigdemont e i suoi consiglieri scappano in Belgio per chiedere asilo. Il presidente della Generalitat di Barcellona è incriminato dalla Procura per ribellione e sedizione. Poi la politica, Salvini apre i 5 stelle, Berlusconi rilancia, Tajani premier, questo in vista delle prossime elezioni politiche. Poi a centropagina troviamo i problemi d'oltreoceano, il Russiagate, spin doctor di Trump in stato di accuse, poi Westingate, molestie e scuse. Ora tocca a Kevin Spacey. Andiamo a centropagina, la sfida di Champions, Sarri e Guardiola, i maniaci della perfezione. Ecco i segreti dei due grandi allenatori rivali. Questa notizia ci introduce ai quotidiani sportivi. Iniziamo la lettura con la Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura è dedicato all'Inter. Inter da record. I Nerazzurri passano a Verona 2-1, faticando troppo. Torna seconda, mai 29 punti dopo 11 giornate per i Nerazzurri guidati da Spalletti. Segna Borca Valero, poi il pari giallo-blu arriva con un rigore dato grazie al VAR realizzato da Pazzini. Gol decisivo di Perisic con una cannonata. Nel taglio alto troviamo la notte di Champions. Juve-Roma è il momento. A Lisbona serve di bala al top. Carica Raja per battere Conte. Stasera Allegri vola a guadagnare gli ottavi di Francesco Ipotecalle. Domani a Napoli c'è Sarri contro Guardiola. Una sfida di stile. L'analisi di Arrigo Sacchi in Champions. Bisogna dare di più per competere con squadre davvero fortissime. Poi di spalla le difficoltà del Milan. Fassone a Montella. Ora pensi ai risultati. L'amministratore delegato sprona il tecnico più che il gioco. Adesso serve concretezza. L'allenatore in bilico contro la IK e il Sassuolo rischia la panchina. Nel taglio basso l'intervista su Extra Time. Il CT della Svezia. L'Italia nel playoff. Non avremo paura. Questo per quanto riguarda i prossimi avversari della Nazionale. Il Corriere dello Sport. Andiamo a vedere l'apertura con la fotografia. Morso Inter. Verona piegato 1-2 nel posticipo secondo post record. Avvio migliore di sempre per i nerazzurri. Nel taglio alto. Matchball Juve. Ritorna alla Champions stasera. Due italiani in campo. Bianconeri a Lisbona con lo Sporting. Se vincono e il Barça non perde è fatta. La Roma in casa contro il Chelsea. Conte e Ranieri. Andranno avanti tutte. Questa è la sua previsione. Di spalla i problemi del Milan. Fassone a Verte Montella. Servono i risultati. Panchina sempre più in bilico. Nel taglio basso la Formula 1. Così Seb studia il controsorpasso. Ora Hamilton ha quattro titoli come Fettel e il piano Ferrari per il rilancio 2018. E poi la Serie B. Un palo ferma la Ternana. Il punto col Carpi è buono. Ora andiamo a vedere anche il titolo di tutto sport. Vale doppio. Stasera Sporting Juve. A Lisbona i bianconeri vogliono blindare la qualificazione agli ottavi Champions per poi concentrarsi sul campionato e sugli scontri diretti che possono risultare decisivi nella lotta scudetto. Vedete la foto di Higuain e di Bale. Due gioielli d'attacco della Juventus. E poi l'Inter. Siluro Perisic. Verona affondato nella partita giocata ieri sera. Il caso Calvarese. L'antitoro. Ma perché gli errori di domenica sono gli ultimi di una lunga serie per l'arbitro Teramano. E poi nel taglio basso Roma di Francesco Tracelsi. Infortuni non casuali. Il Milan ultimato ma Montella è l'ora di pensare ai risultati. E noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con i nostri esperti di Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della rassegna dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo come detto alle notizie dalla nostra regione. Aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro in primo piano la visita di ieri pomeriggio del ministro per il mezzogiorno Claudio De Vincenti. Polo automotive in Abruzzo, macchina del futuro. Ecco i nuovi progetti. Il ministro regione protagonista nel campo appunto dell'automotive e in questo caso si parla chiaramente della Val di Sangro. Andiamo a vedere quest'altro box. Coinvolte 15 aziende oltre all'Università dell'Aquila la Politecnica delle Marche con un investimento complessivo di 14 milioni di euro nel polo di innovazione dell'automotive. E poi i veleni di bussi. Cambiando argomento. La regola è chi inquina paga e la bonifica. Tocca ad Edison. Intervista al giornale della dirigente del Ministero dell'Ambiente Laura D'Aprile che dice ci siamo costituiti parte civile contro l'azienda. Ora provveda all'intervento. Abbiamo intimato delle tempistiche stringenti. Se stiamo qui a discutere su un progetto già depositato anziché sul nulla lo si deve proprio a questa scelta. Dello storno dei 18 milioni del masterplan da parte della regione per interventi di manutenzione sulle strade provinciali non sapevamo nulla. Così la dirigente del Ministero dell'Ambiente. Scendiamo nel taglio basso. Regione bonifica a carico dello Stato e del privato ma se serve le risorse ci sono. Questa è la risposta della regione e ancora. Per quanto riguarda la politica invece il governatore Milicandido in Abruzzo. D'Alfonso Andrea a Roma solo per un'esperienza di governo. Queste le parole appunto di D'Alfonso. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo sul messaggero. Il giallo dei fondi spariti senza il masterplan. La bonifica Edison non convince Bussi. Oggi al Ministero dell'Ambiente si discute il progetto dell'azienda. Perplessità su risorse e modalità anche da parte del sindaco di Bussi Lagatta. Il direttore generale Vincenzo Rivera ammette 20 milioni stornate alla luce degli impegni assunti dal privato. Il report di lega ambiente Teramo Pescara record di bici. Teramo rifiuti ok. Vizi e virtù delle città abruzzesi. Nel taglio basso Fira e Abruzzo sviluppo stallo sul futuro delle società. Assemblee e CDA paralleli per le due SPA della regione. La finanziaria punta a diventare in house. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città. I meccanici ATAC protestano per gli stipendi. Da Roma a Pescara per manifestare nello studio Serraiocco contro il ritardo di 4 mesi nelle spettanze. L'azienda, la copa SRL del gruppo Ettore Gomme di Notaresco si occupa della manutenzione delle vetture ATAC a Roma. Andiamo a vedere insieme il servizio su quanto accaduto ieri mattina a Pescara. La città lo deve sapere. I suoi cittadini lo devono sapere. Siamo venuti da Roma dipendenti della Corpa che è l'azienda che fa la manutenzione alle vetture dell'ATAC. Sono 4 mesi che i lavoratori della Corpa non percepiscono lo stipendio. Su questo ci sono state già tante proteste. Noi siamo negli uffici del dottor Serraiocco che con la sua società detiene il maggior numero di azioni della Corpa. La Corpa fa parte di un gruppo, la Ettore Gomme. È un gruppo che non ci sembra che sia in crisi però sui lavoratori grava il problema di 4 mesi di stipendio. Ora è successo un fatto ancora più grave. Non solo non pagano lo stipendio ma si permettono di contestare ai lavoratori che non vanno più a lavorare dicendo che non si capisce il motivo di questa assenza. Il motivo lui lo sa benissimo. Queste persone non ce la fanno più. Le bollette, l'affitto, il mutuo di casa, la vita quotidiana non ti aspetta 4 mesi. Quindi questi lavoratori, sono 140, si trovano in una condizione di affammamento. Quest'azienda deve sbrigarsi a retribuire i lavoratori che hanno regolarmente svolto la loro attività e che in questo momento sono alla fame. Questo è il motivo di questa irruzione. Noi speriamo di avere la possibilità di discutere pacatamente con il dottor Serraiocco e di poter affrontare e risolvere questa situazione che peraltro sta colpendo un servizio essenziale nella città di Roma. La manutenzione degli autobus costituisce un servizio fondamentale e su questo quindi c'è non solo un danno ai lavoratori ma c'è anche un danno alla cittadinanza. Noi abbiamo fatto già incontri con la prefettura, con l'amministrazione comunale. Sicuramente questa non è una vicenda che riguarda esclusivamente questa azienda, però adesso siamo arrivati a un punto molto grave. Troppi sono diventati mesi in cui i lavoratori non percepiscono lo stipendio. È una situazione paradossale. Andiamo a vedere l'apertura di pagina su Pescara del messaggero. Droga e roghi alla firma della Camorra. Chiuse le indagini della direzione antimafia sugli affari del clan Formicola Pescara verso il processo. I 19 imputati attentati contro i locali della costa per recuperare crediti legati al traffico di stupefacenti. Tutto partì dall'incendio del Florida Park, sempre di Pescara. E poi, attenti a quei due, mi hanno rubato la barca e posta le immagini su Facebook, la caccia ai ladri. Il video diventia virale. Poi l'arsenale dell'insospettabile meccanico. Andiamo a vedere meglio. Fucili, pistola, munizioni e persino un'arma artigianale scovati dai carabinieri. Si cercano i contatti dell'uomo fermato. Andiamo avanti sulla pagina di Pescara del messaggero. Ipotesi d'amico alla guida della nuova Pescara. Il PD apre il tavolo di confronto. D'Alfonso illustra la legge in vista del gennaio 2019 e pensa già al rettore candidato. Il sindaco di Spoltore di Lorito esprime la sua contrarietà in una lunga lettera. È davvero la scelta più conveniente? Si chiede il primo cittadino. E poi vedete di nuovo la protesta per gli stipendi non pagati dei dipendenti della Corpa. Continuiamo e concludiamo la lettura del messaggero. Nella pagina dell'area metropolitana. La musica bella di Colibri Ensemble. 12 appuntamenti fino ad aprile. Questo il cartellone. Andiamo sul centro. Anche qui apertura di pagina per Pescara. Piano per le emergenze. Il comune attiva 6 squadre per le urgenze della città. Tecnici reperibili 24 ore su 24 per interventi su strade, edifici e verde pubblico. I dipendenti dell'ente interverranno in caso di cedimento dell'asfalto, incendi, crolli dei palazzi, incidenti e operazioni di protezione civile. Fino ad oggi l'ente ha fatto fronte a tali necessità mediante forme di reperibilità pressoché spontanee, senza prevedere una pianificazione organizzata. La strada dei pericoli. Un ferito ogni due giorni sul marciapiede trappola. Quanti rischi su Viale Regina Margherita. Siamo in pieno centro. Pescara tra buche e mattonelle sconnesse. Una residente per una caduta. Un braccio rotto e quattro costole doloranti. Andiamo avanti. Adolescente terribile. 20 furti in pochi mesi. Il ladruncolo ha solo 13 anni. Dall'aeroporto alla stazione rubò ovunque. I genitori sono in carcere. Ultimo colpo messo a segno negli uffici della fira quando si è impossessato di un portafogli. Banditi in via Pigafetta. Rapina al discount con pistola e coltello. Due giovani con il volto coperto portano via. 1.800 euro di incasso. Continuiamo. L'ite sull'accesso all'impianto. Caso l'enaia di alla regione Pioggia di messaggi di protesta. Sulla pagina Facebook dell'ente e tanti post di genitori di tesserati del club acquatico. Nel mirino la Progetto Sport che si difende. Mancano i documenti necessari. Scendiamo nel taglio basso. Ieri la cerimonia in via Guelfi con il fratello. Ecco il parco Angelo Vassallo e il sindaco ucciso dalla Camorra. Andiamo a vedere anche questo servizio. Da oggi il parco di via Filomusi Guelfi a Pescara sarà intitolato ad Angelo Vassallo un eroe dei nostri giorni e forse un po' dimenticato. No, non è dimenticato. È dimenticato da chi lo vuole dimenticare. È una persona normale. Angelo non è un eroe. È un sindaco che voleva fare solo il sindaco e non voleva essere ucciso. È una bellissima cosa che voi pescaresi e l'amministrazione fate per Angelo, per un uomo ancora più a sud di Pescara per dimostrare che la bella politica esiste ad ogni latitudine e che è fatta dalle persone per bene. Se oggi il suo fratello fosse stato qui cosa avrebbe pensato? Cos'è tutta questa confusione? Avrebbe detto. È una bella cosa, no. Non è una confusione. È un bel vocio di bambini che sperano e guardano noi come la bella cosa che ci sono nella vita. Quindi Angelo è stato ed è una bella cosa e che viene ricordato a Pescara come in tantissimi posti del nostro paese. Pescara ancora di più perché c'è il mare e dove c'è il mare c'è Angelo. Blasioli è una bella iniziativa quella di oggi tutt'altro che simbolica anche Pescara vuole ricordare questo giovane sindaco scomparso per mano della Camorra. Sì, soprattutto gli insegnamenti di Angelo e quindi ci sembrava giusto che un sindaco che sia impegnato tanto per la legalità e per l'ambiente avesse intitolato proprio un parco nella nostra città. Tra l'altro questo è un parco molto atteso dalla cittadinanza di questo posto lo aspettavano da tempo insomma è arrivato. Intitolare il parco ad Angelo significa intitolare il parco a tanti sindaci che fanno come persone normali il proprio dovere che è una cosa importante. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro adesso apriamo le pagine dedicate all'area metropolitana partiamo con questa notizia che arriva da San Giovanni Tiatino tagli di spese esclusi per lo staff del sindaco tre consiglieri di opposizione contestano a Marinucci l'aumento dei costi per il capo di gabinetto dopo aver detto no al nido pubblico e poi a Francavilla sportello attività produttive nuovo sistema per le pratiche ancora celebrazioni del 4 novembre omaggio ai caduti in guerra a San Buceto nel Paese Alto nel taglio alto invece della pagina colletta per Deborah ferma a letto da anni iniziativa appunto di beneficenza a San Buceto per Deborah Brandimarte andiamo avanti sulla pagina di Montesilvano la cronaca sorpreso con armi e droga arsenale in caso operaio arrestato un incensurato di 39 anni nei guai dopo un controllo in auto a Pescara per evitare i carabinieri ha infilato la cocaina in bocca dopo la convalida dell'arresto l'uomo è tornato in libertà ed è stato sottoposto all'obbligo di firma procedono gli accertamenti di lui e sulle armi ancora andiamo a vedere le altre notizie ritrovata un'altra bici rubata funziona la punzonatura arrivata a quota 1300 telai continuiamo anche qui ritroviamo il dibattito sulla nuova Pescara di Lorito la fusione penalizzerebbe i comuni più piccoli il sindaco di Spoltore scrive al governatore D'Alfonso in vista della discussione sulla proposta di legge elettorale scusate di legge regionale andiamo nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara lo stadio di Penne ancora inagibile tifosi penalizzati ammessi solo 99 spettatori alle partite della squadra cittadina il comune prova a sbloccare la situazione si decide tutto giovedì di spalla la tragedia di Rigopiano D'Alfonso il presidente della provincia sarà prosciolto nella inchiesta che è seguita appunto alla morte di 29 persone il 18 gennaio scorso a Serra Monacesca va in scena la tradizione oggi e domani la sagra della Zucca e poi a Colle Corvino festa dei nati nel 77 andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti iniziamo da Lanciano con la cronaca vigilessa presa a calci e pugni davanti a casa la sotto ufficiale seguita e aggredita ad uno sconosciuto che l'ha picchiata e minacciata fermato dai parenti della donna i precedenti picchiati in villa indagini ancora aperte quindi non è un caso isolato quello della vigilessa purtroppo continuiamo con Lanciano i simboli del fascismo via dal teatro Fenaroli il comune fa rimuovere definitivamente il basso rilievo dopo il nulla osta della soprintendenza andiamo a vedere insieme il servizio il 27 maggio scorso lo avevano coperto e da questa mattina il simbolo del potere fascista non c'è più sono stati infatti rimossi dalla facciata del teatro di Lanciano i tre facilittori che ornavano la parete esterna del secondo piano appena sotto la base del timpano che riporta la scritta teatro comunale Fenaroli cinque mesi dopo la cerimonia di copertura dei fasci promossa da Lampi con un telo che tuttavia lasciava trasparire il manufatto l'amministrazione comunale ha esaudito il desiderio di Maria Saveria Borrelli consigliere comunale del PD e presidente Ampi Lanciano doverosa e importante sottolineò Borrelli nella sua introduzione alla cerimonia del 27 maggio giornata nazionale contro il fascismo l'adesione dell'amministrazione comunale con la copertura finalmente dei fasci littori simbolo di potere fascista un deciso atto politico commentò il sindaco Mario Pupillo in città l'iniziativa scatenò polemiche infinite sulla rilevanza storica o meno della lapide che venne fatta apporre dopo il restauro del teatro negli anni 90 dall'allora sindaco Nicola Fosco e sulla decisione di coprirla per rimuoverla in un secondo momento la sovrintendenza abruzzese ha autorizzato l'eliminazione del manufatto perché non ha più di 50 anni e quindi non è sottoposto a tutela con le normi vigenti i fasci erano stati sistemati nel 1997 è stata una giusta rivendicazione dei cittadini lancianesi ha detto il sindaco Mario Pupillo che hanno espresso la loro contrarietà ai fasci vietata per legge anche attraverso una raccolta di firme ora sulla facciata del Fenaroli saranno apposte artistiche maschere teatrali in sintonia e in continuità con gli altri aspetti architettonici dell'edificio proseguiamo con la lettura della pagina di Chieti del centro nel taglio basso Simone D'Aita si scagliò contro Donofrio arriva alle battute finali il processo per la morte del giornalista 52 anni in assise parla un testimone oculare stessa notizia che ritroviamo sul messaggero andiamo a vedere il titolo il test è chiave Emanuele colpito per primo rispose con un pugno si delinea un quadro di legittima difesa vacilla l'accusa di omicidio preterintenzionale sentito il medico della rianimazione Simone in coma non ha mai ripreso conoscenza gli sgoccioli il processo in corte d'assise di spalla la ASL nomina della Di Pietro la corte dei conti archivia il procedimento e poi nel taglio basso PD confermato di Giovanni lavoro per unire il partito nella pagina di Lancianova Stortona ritroviamo la visita di De Vincenti il governo investe sull'automotive il ministro alla Seve l'ha incontrato i dirigenti FCA e visionato i progetti di innovazione soprattutto sul Ducato ribadite le risorse milionarie destinate ai piani di sviluppo Fondo Valle Sangro e banda ultralarga agli obiettivi in cantiere poi Maxi di scarica a Cupello insorgono gli ambientalisti sottoposta via la quarta vasca da 500.000 metri cubi del consorzio Civeta andiamo a vedere insieme adesso le notizie dalla pagina Aquilana e dunque eccola qui la pagina dell'Aquila all'apertura con l'università calo di iscritti ma più aperti al mondo tributo a Vincenzo Rivera fondatore dell'Ateneo a 50 anni dalla morte presente Sofia Corradi la madre del progetto Erasmus in tutta Europa le parole della rettrice Paola Inverardi siamo garanti per la crescita e la qualità del territorio e poi la nuova seggiovia delle Fontari rischia di costare di più a Campo Imperatore l'associazione progetto Montagna critica sulla mancanza degli step al progetto andiamo avanti sempre dall'Aquila terremoto tanta gente ha riso dopo il saluto del comandante dei vigili urbani Ernesto Grippo criticati solo gli imprenditori che ridevano c'è stato di peggio ha detto presentato il report delle attività del servizio dal primo gennaio al 15 ottobre 2017 a due giorni dal suo addio al capoluogo e poi sicurezza degli edifici scolastici ancora scontro dura interrogazione di Masciocco e Mancini e dal prossimo anno in consiglio si canterà l'inno di Mameli proseguiamo con le altre notizie TSA ha approvato il bilancio un bando per la direzione in pole position Jacopo Gasman figlio minore di Vittorio il 5 dicembre decade il CDA andiamo a vedere anche la pagina di Avezzano sul Mona NAS negli ipermercati sequestre e multe continuano i blitz dei carabinieri trovati poglie all'ospedo e altri alimenti senza le informazioni sulla tracciabilità a finire nei guai è stato il responsabile del punto vendita il trasporto avveniva con veicoli carenti di autorizzazioni torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere insieme la pagina dell'Aquila eccola qui la città del sapere si parla ovviamente del capoluogo università in aumento le matricole anno accademico al via con una cerimonia scienze umane prima del terremoto gli iscritti erano 24.392 oggi sono 18.512 dal 5G a Emergenze e poi ZTE con il colosso cinese dell'automotive Horizon tutti in partnership con l'Ateneo questi sono i progetti portati avanti appunto dall'Università dell'Aquila ancora Halloween notte pericolosa per i giovani l'Aquila parroco condanna la festa distorce il messaggio più importante per i nostri figli e poi teatro sono raddoppiati gli abbonamenti a Sulmona va a gonfie vele la nuova stagione di prosa alla Maria Caniglia già staccati 250 tagliandi andiamo a vedere la pagina di Teramo la cronaca giudiziaria Mazzetti ha arrestato un cantoniere dell'ANAS l'inchiesta accuse di concussione chiedeva soldi agli imprenditori per rilasciare permessi per l'esecuzione di piccoli lavori sulla strada statale adriatica e poi presunta truffa con le azioni Tercas la difesa di Matteo rinuncia ai testi Ancora l'ANAC all'università ruotate il personale decreto dell'autorità anticorruzione l'Ateneo Teramano dovrà adeguarsi o ricorrere al TAR nel taglio basso se c'è grazie Teramo fra noi c'è stato subito feeling la serata di addio al Vescovo andiamo a vedere insieme la pagina di Teramo sul sul messaggero la recuperiamo subito eccola qui si parte con la cosiddetta guerra del teatro Riccitelli la prosa parte dal palasport ACS invece al teatro Leonora Coccagna la direttrice della ACS inizierà la stagione con interferenze una performance sperimentale Cocciolito che invece è il presidente della Primo Riccitelli faremo il possibile per rendere compatibile quel luogo con gli show andiamo a vedere insieme il servizio su questa notizia l'incredibile guerra del teatro a Teramo tra ACS gestore del comunale e l'associazione Primo Riccitelli fa segnare un altro colpo di scena la Riccitelli che lo scorso anno contava oltre 2000 abbonati conferma la sua stagione di prosa 2017-2018 spostandola al palazzetto dello sport di San Nicolo a Tordino dove aprirà con Gabriele Lavia il 7 novembre prossimo ad annunciarlo il presidente Maurizio Cocciolito particolarmente provato da una vicenda pasticciata e con strascichi legali che sta mettendo a dura prova la tranquillità dei vecchi e nuovi abbonati una nuova avventura una nuova situazione andremo in un luogo molto bello che consente il posizionamento di un palco di 14 metri per 12 molto grande ben più grande di quello dell'attuale teatro comunale quindi le scene saranno posizionate al meglio ci saranno 800 posti per gli spettatori saranno 800 sedie non in plastica ma saranno sedie imbottite ci sarà servizio bar servizio guardaroba ci saranno degli autobus che andranno a prendere i nostri abbonati quelli che sono abituati generalmente vengono a piedi al teatro comunale riporteremo al termine degli spettacoli andremo a prendere con degli autobus gli studenti delle scuole e riaccompagneremo al termine sempre degli spettacoli insomma una situazione nuova e nella stessa data dello spettacolo di Gabriele Lavia in programma per la Riccitelli il 7 novembre a San Nicolò Abruzzo circuito spettacolo annuncia al teatro comunale di Teramo la dodicesima edizione di Interferenze un tour suggestivo di danza e musica attraverso spazi inesplorati quest'anno Interferenze che vivrà gli spazi inesplorati del teatro comunale di Teramo quindi ci sarà questo tour suggestivo attraverso spazi conosciuti e anche quelli sconosciuti e degradati che si vestiranno di una nuova luce attraverso la performance E la Riccitelli riflette che invece il teatro comunale è chiuso a chiave per loro? No assolutamente è un teatro apertissimo e chi legge i giornali e chi frequenta il teatro già visto ha potuto vedere da più o meno 15 giorni a questa parte di quante sono state le manifestazioni nate anche in collaborazione con altre associazioni La Riccitelli si sposta al parasporto di San Nicolò la C.S. ha vinto Intanto sicuramente sono felice di restare ancora qui che la C.S. resti ancora qui perché ci è stato detto di tutto che ci avrebbero cacciato quindi invece come insomma si può vedere siamo qui e siamo operativi pronti per per questa avventura che ci accompagnerà per i prossimi 12 anni e la voglia è quella di costruire insieme la città e interferenze sarà uno step importante per questo e andiamo a vedere insieme le pagine interne della città ripartiamo proprio dalla guerra del teatro la stagione della Riccitelli abbiamo visto spostata al pala San Nicolò persa la battaglia con C.S. 2.100 abbonati verso il palcomobile nel taglio basso comune incapace di revocare la concessione del teatro la consigliera chiede di affidare il comunale alla Tercop come ad Atri Maria Cristina Marroni e poi ACS apre le braccia agli abbonati delusi la prosa non può che abitare in teatro ridicola una stagione in un pala sport nel taglio basso di questa pagina brucia la copertura in legna del terrazzo con l'atterrato incendio scatenato dalla canna fumaria metallica del camino andiamo avanti e proseguiamo con la lettura della città di Matteo rinuncia ai suoi testi per la difesa ormai appurata la modalità di vendita dei pronti contro termine siamo ovviamente al processo che riguarda la Tercas a centro pagina Monica Brandiferri sarà consigliera di parità in attesa del bando la supplente sostituirà Vagna della Vigna dimissionaria ancora sempre da Teramo chiedeva Mazzette per la concessione dell'ANAS notizia che abbiamo già visto in precedenza e poi Minosse piglia tutto impone la Marcozzi l'assemblea del partito la conferma la presidenza i progressisti per il PD speravano in una apertura andiamo avanti a imprese chiuse la Tari si sposta sulle famiglie il comune promette una diminuzione del 14% ma per le abitazioni la bolletta crescerà del 4% questo è il nuovo conto della Tari al comune di Teramo e per la politica bilancio grande incertezza prima del passaggio in consiglio comunale consiglieri dissidenti osservati speciali prima del voto Teramo si rifà sotto nella classifica di lega ambiente presentato ecosistema urbano 2017 il capologo aprutino al 18esimo posto in Italia per l'attenzione all'ambiente cittadino continuiamo con le notizie dalla provincia anziana morta nel frontale indagato un 29enne domani a collegare i funerali della 89enne Maria Celani deceduta 10 ore dopo l'incidente lungo la statale 150 ciclista in coma restano gravi le condizioni del bengalese che si è scantato contro un'auto a Castelnuovo al Vomano chiusa l'inchiesta sul nonno pirata travolse e uccise il 32enne Aldo di Monte senza fermarsi a prestare soccorso incidente avvenuto nel luglio dello scorso anno sulla Fondovalle del Saninello nel territorio di Tortoreto andiamo avanti ladri e vandali in chiese nelle scuole i carabinieri ne arrestano due beccati all'interno dell'alberghiero Crocetti Giulianova portati via dalla chiesa di San Paolo a posto l'800 euro un calice d'argento dello stensorio nel taglio basso troviamo un'altra notizia che riguarda la sanità il futuro dell'ospedale nelle mani del manager Fagnano il tavolo tra Alfonso e Mastromauro chiede una relazione sull'azienda sanitaria andiamo a vedere anche la pagina di Roseto Pinetro a Tresilvi Roseto Pignora 137 mila euro a notaresco ingiunzione di pagamento per i servizi sociali mai pagati nel piano di zona adesso torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina dedicata allo sport abruzzese partiamo dalla serie B il delfino in difficoltà Pigliacelli Zeman la pace servita portiere reintegrato si chiude il caso dell'estremo difensore del Pescara che ha chiesto scusa al Boemo niente multa in arrivo e poi si rivede Proietti Coulibaly e Bovo Acciaccati il mediano è tornato in gruppo ma sarà pronto tra dieci giorni l'ex Ronzani col Palermo serve una vittoria intanto nel posticipo tra Ternana e Carpi vedete la partita è finita 0 a 0 la serie C continuiamo la lettura del quotidiano il centro tra Rimonte e Pareggi il Teramo si gode il suo momento positivo in 5 gare su 10 è riuscito a recuperare le situazioni di svantaggio Asta su Tulli che non convince da lui ci aspettiamo qualcosa di più queste le riflessioni dopo l'1 a 1 di Bergamo i Biancorossi oggi riprendono gli allenamenti in vista della sfida interna di domenica col Sud Tirol da valutare le condizioni di Sumare andiamo a vedere anche la Bruzzo Sport del Messaggero l'apertura di pagina è dedicata al Pescara e dunque Pescara questione di tempo Fabio Lupo DS del Palermo dice le squadre di Zemana sono altalenanti in avvio ma poi c'entrano sempre l'obiettivo noi in questo momento siamo trascinati da Nestorosti Gans è forte ma ha bisogno di sentire la fiducia di tutti queste le parole dell'ex DS del Teramo anche qui viene riportata la notizia del caso Pigliacelli rientrato il portiere è tornato ad allenarsi con il gruppo poi nel taglio basso troviamo il Teramo il prossimo obiettivo è recuperare Tulli dopo un buon avvio l'attaccante non si è ancora trovato a pieno contro il Sud Tirol una nuova chance andiamo a vedere anche la pagina dello sport sulla città eccola qui il Teramo 2.0 ringrazia quello vecchio il diavolo rimedia al solito svantaggio con Sales e Barbuti due che in questa squadra non dovevano esserci Asta ora deve debellare la cronica pareggite torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere nel taglio basso della pagina con cui abbiamo approfondito la serie C c'è l'eccellenza Giulianova il disagio il primato dateci il Fadini o ce ne andiamo Poletimica con il Comune per la gestione dello stadio andiamo in serie D le abruzzesi del girone F Francavilla macchina da gol Lavezzano con il turbo nel turno scusate infrasettimanale domani sfida tra due delle squadre più in forma ma va stese a gonfie vele Nero Stellati Pineto a Pescina tre turni di stop a Ibe questo è il riassunto della serie D andiamo avanti troviamo il calcio giovanile con gli approfondimenti sui settori giovanili e poi andiamo a vedere quest'altra notizia invece del basket di A2 Roseto ecco il rinforzo mirino su Anthony Raffa il play potrebbe arrivare dal Lucoil Soffia entro qualche giorno il presidente Cimorosi lavorrebbe in campo domenica Comps ora è un rebus la palla a nuoto la serie A2 è al Via il 25 novembre Pescara l'avventura parte dalla Sicilia trasferte prima a Palermo e poi a Catania in avvio di stagione andiamo a vedere anche di completare la lettura sulla Bruzzo Sport del messaggero torniamo alla serie D l'Aquila la squadra Ceora tocca alla società e Rosoblu onorano il campionato ma dai soci per il momento non arrivano reazioni all'appello di Ranucci per evitare il crack l'assemblea aggiornata al 13 dovrebbe dare il via al ripianamento di perdite per oltre un milione di euro e poi l'Avezzano Avezzano Super ma in arrivo c'è un doppio esame di laurea per la squadra marsicana la vastese una vastese da record adesso non ha paura di pensare in grande per i biancorossi 5 vittorie di fila e secondo posto in classifica andiamo nel taglio basso il Pineto vince si scopre più cinico Iervese Francavilla la mentalità è ok per chiudere questa ricognizione sulla serie D e questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina vi do appuntamento ai prossimi spazi informativi della nostra redazione con il TG6 delle 14 quello delle 19 e poi l'ultima edizione alle 23 io vi auguro ovviamente una buona giornata a a Grazie a tutti.